Natale è arrivato, ma sotto l'albero rosa-nero non è che sia proprio un trionfo di fiocchetti e pacchetti regalo. Il campo ha lasciato un'ultima profonda amarezza. La vittoria sfumata nel recupero contro il Pescara avrebbe addolcito non poco le feste in Casa Palermo, che adesso è atteso sabato 7 da un'altra finale in Casa dell'Empoli. Le festività in Serie A aprono abitualmente anche il periodo delle trattative, ma nulla ancora trapela per il mercato di riparazione. Gli asterischi più ingombranti arrivano dalla voce cessioni. Bui lascerà quasi sicuramente la Sicilia dopo sei mesi deludenti, ma la sua partenza non porterà moneta dal momento che il centrocampista olandese è in prestito dalla Juventus. E il gelido vento svedese a interessare maggiormente le vetrate degli ampi uffici di Vielle del Fante. Robin Quaisson si è finalmente sbloccato, guarda caso, nelle ultime settimane utili per rinnovare il suo contratto con i Rosa o per non farlo. Senza un accordo tra giocatore e società, il trequartista 23enne dalle 23.01 del 31 gennaio sarà libero di accordarsi con chiunque per giugno, senza che al Palermo arrivi neanche un euro. Più definita la situazione di Iliamark, il giocatore non è riuscito più a tornare sui livelli del suo primo anno in Sicilia e potrebbe anche partire a gennaio. Le richieste dall'Inghilterra non mancano, mentre in Italia l'Atalanta sembra essersi interessata alla situazione. Il valore attuale del giocatore si aggirerebbe sui 4 milioni, pochi ma buoni per provare a imbastire un mercato in entrata tra i più importanti degli ultimi anni. Per provare a salvarsi servirebbero dai 3 ai 4 innesti, un difensore, se non due, un centrocampista e un attaccante. Per l'attacco Zamparini non ci sente, per lui Nestorowski basta e avanza. In difesa uno dei nomi quasi sicuri è quello di Jakov Vilipovic, 24enne, centrale in forza ai croati dell'Inter Zapresic, gli stessi di Pozovets e Nestor. 52 presenze e 6 gol nella Serie B croata, 18 e 2 nella massima serie in questa stagione. Costo popolare, 250 mila euro. Restano i dubbi se potrà essere o meno pronto per chiudere le falle della peggior difesa della Serie A italiana.